Ciao, sono Marco, il video di oggi si intitola Stai lontano dalla televisione. Negli ultimi tempi, stiamo parlando veramente degli ultimi anni, forse dell'ultimo biennio, siamo stati di fronte a eventi, diciamo, non proprio puramente ordinari, ma extra ordinari, cioè fuori un po' da quello che è il comune di tutti i giorni. Ho deciso di fare questo breve video perché voglio sperare che grazie a questo video tu smetta di guardare quella che è la televisione, quelli che in sostanza sono i media, insomma, da allontanarti un pochettino da quella che è l'informazione. L'informazione è giusto che tu la conosca, che tu sappia cosa succede nel mondo, cosa sta succedendo vicino a te, a fianco a te, ma oggi l'informazione è formata da articoli rivolti solo a fare click, articoli che devono trattenere magari l'utente sul sito perché vengono pagati in base a quelli che sono in click, la loro pubblicità magari viene pagata in base al tempo di tua permanenza sul sito, quindi ci sono dietro una marea di dinamiche che hanno reso quella che è l'informazione, stiamo parlando dei media online, ma anche quella che è la televisione, non più pura, non più essenziale e non più in linea con quello che accade veramente. Quindi anche oggi sempre di più la televisione, quelli che possono essere i giornali, i telegiornali, sparano diciamo titoli, come posso dire, che creano fatti in modo da creare horror, da creare paura, non sto dicendo, non sto negando che non siano appunto periodi particolari, non sto dicendo questo, ma quello che voglio consigliarti è cerca di stare lontano quello che basta per non farti intossicare da queste informazioni, che vogliono soltanto tenerti incollato lì, lì davanti a questo schermo, vogliono fare in modo che tu viva nel terrore, che tu viva nella paura, quindi c'è un vero e proprio terrorismo dal punto di vista mediatico, in quello che appunto succede quotidianamente, ogni cosa viene gonfiata, ogni cosa viene colorata, bisogna fare proprio in modo che la persona abbia in qualche modo paura, che inizi appunto a provare terrore, non so nemmeno bene quale sia in realtà lo scopo finale, però quello che voglio consigliarti io oggi è un po' un punto di vista mio personale, ma ne va di quello che è la tua, sicuramente la tua poi esistenza. Visto appunto quello che ci sta capitando ultimamente, non sappiamo bene quanto fondamentalmente ci possa restare da vivere o meno, quindi o quello che ci potrà accadere, perché oggi il mondo, come ho già detto in un sacco di video presente nel mio canale, va ad una velocità che fino a 50 anni fa non ci saremmo mai potuti immaginare. Quindi non sappiamo nemmeno cosa succederà domani, cosa potrà cambiare nel futuro prossimo di domani, perciò stare lì incollato a cercare di reperire informazioni, ad aprire un vaso di Pandora dietro l'altro, cercare di scoprire qualcosa che poi non si scoprirà, cercare il complotto. A questo punto io ti dico fermati un attimo, chiudi quella televisione, guarda, vatti a fare una passeggiata fuori, incontra magari qualcuno o stai con qualcuno dei tuoi cari, allontanati un po' da questi media, da questa vita, da questa informazione e prova a trattenere proprio quelli che sono le tue sensazioni, le tue emozioni del momento, proprio perché non sappiamo davvero cosa potrà accadere da un momento all'altro. Quindi fai in modo che quello che succede intorno sia una parte della nostra vita, sì, ma che non diventi la nostra vita, non farti annebbiare la mente, non farti deprimere. La pandemia recente si narra che abbia fatto più vittime dal punto di vista psicologico, più di quelle che non siano state le vittime vere e proprie della pandemia. Quindi allontanati da quel televisore, spegni il televisore, spegni anche questo video e prendi una boccata d'aria là fuori, che forse è la cosa migliore in questi tempi, non proprio semplici. Io mi auguro che questo video sia stato utile per te, anche se breve. Se c'è qualcosa di cui ti farebbe piacere parlare, lasciamo lo scritto qua sotto nei commenti o se c'è qualcosa di cui è piacere di discutere. E se comunque questo video ti è piaciuto, metti mi piace, attiva la campanella qua sotto e seguimi nei prossimi video. Ciao.